Creare un percorso di scambio e collaborazione, sono queste le parole di Mifisud, presidente del polo universitario di Agrigento, riferita alla quinta commissione consigliare promozione culturale della provincia di Agrigento, che Mifisud ha incontrato questa mattina. All'incontro si è discusso sui progetti e iniziative che serviranno a creare un'alternativa e che avranno anche delle ricadute positive per il nostro territorio provinciale. Fra le varie proposte è presentata anche quella di avviare nuovi corsi di laurea che serviranno a creare nuove figure professionali da inserire nel mondo del lavoro. Ottime prospettive quindi per il polo universitario di Agrigento.